Amici ascoltatori benvenuti e ben ritrovati, benvenuti e ben ritrovati a questo nuovo salottiamoci, questa puntata speciale che vi dedichiamo come vedete in compagnia, li abbiamo beccati finalmente figlia e papà Caterina Minervini e Gregorio Minervini, siamo all'interno di questa straordinaria struttura che di giorno in giorno si arricchisce sempre di nuovi eventi, la macchia degli esperti, ma siamo qui anche per ricordarvi e soprattutto gli ultimi risultati che hanno conseguito sia Caterina che Gregorio, ovviamente semplicemente per motivi di cavalleria cominciamo da Caterina che possiamo definire una ragazza sempre con la valigia in mano perché è reduce appunto da una gara di poco tempo fa, una in realtà in Germania in cui ha conseguito uno straordinario quarto posto ma una gara, stiamo parlando di una gara internazionale e poi invece a Roma ne ha effettuata un'altra solo qualche giorno fa. Allora Caterina è arrivato il momento di spiegare come è andata in Germania. Allora in Germania ho partecipato agli europei, questa gara si chiama Futurity perché è riservata ai cavalli di quattro anni e la mia cavalla avendo quattro anni potevo partecipare e sono arrivata al quarto posto a livello europeo in Germania. Che non è roba da poco perché mi pare che fosse la tua prima esperienza di tipo internazionale, vero? Esatto, sì sì sì, è stata la prima volta che ho partecipato a un evento così importante e anche un evento organizzato fuori Italia perché fino ad allora avevo partecipato solo a gare regionali e massimo nazionali. Allora per questa gara ovviamente ci sono trofei, il nostro operatore li inquadrerà, io voglio solo mostrarvi questa bellissima foto che dà un po' l'idea della bravura, della determinazione e prego Greg, tienili tu, tienili tu queste foto, guardate amici, guardate la grazia ma soprattutto la, come dire, proprio la destrezza. Caterina, dici un po' quanto tempo ti alleni perché so che tu a volte vai presso un centro ipico abruzzese ad allenarti. Sì sì, perché il mio allenatore che è Alfredo Ciabattoni ha un centro ipico in Abruzzo e io ogni tanto vado lì ad allenarmi e lui comunque che mi prepara la cavalla. Ecco Greg, invece i tuoi ultimi successi, ricordiamoci perché guardate amici, questi sono solo alcuni dei trofei vinti da Greg. Sì, io con questo c'ho un nuovo cavallo molto, molto, molto impegnativo, ha bisogno di un grossissimo riscaldamento, ha bisogno di tanto lavoro dietro per poter affrontare una gara, un animale particolarissimo, quasi in mezza Italia ha tentato di mandare avanti questo cavallo con scarsi risultati, tra cui due dei top 20 al mondo pure, ci sono saliti su questo cavallo. Ma a te piacciono queste sfide? E qui è dura, dura, io posso smettere domani, come posso andare avanti per un altro anno, due, nessuno lo sa con questo animale in particolare. E a me è andata bene su quattro gare e tre ne sono andate bene, di cui ho vinto la prima gara in interregionale sempre qui a Corropoli in Abruzzo dove noi abbiamo i cavalli e poi ho preso un bronzo nel campionato italiano dell'Equice che significa l'associazione italiana della quarter horse per la razza di questo cavallo, questi sono i quarter e poi c'è stato, ho quasi alle porte dei 58 anni, ho eguagliato il mio record personale che è del punteggio di 73 e mezzo, però farlo ora, l'ultima volta che ho fatto un 73 e mezzo sarà stato 5-6 anni fa, non è minimamente eguagliabile perché la qualità negli ultimi 4-5 anni è salita in maniera vertiginosa. Quindi questo 73 e mezzo equivale a un 75 diciamo di 5-6 anni fa, quindi è la miglior gara della della mia vita ed è stata una gara organizzata dalla National Raining Horse Association, che praticamente è la prima volta che io vinco una gara così importante nella mia vita. E poi c'è stato un nono posto in Germania su 22 o 25, non ricordo bene, però praticamente Caterina ne sa qualcosa, il cavallo non si voleva sottomettere, non voleva fare assolutamente niente, quindi praticamente io sono andato in gara, immagina di andare tu in gara senza sterzo, c'è di ok, è stata una sfida nella sfida, ok, sto senza sterzo, noi comunque andiamo in gara. A me è rimasto impresso, se tu mi permetti, prego, prego. Qui si rasenta la pazzia, il nostro allenatore addirittura non ha voluto vedere la gara dal vivo, perché dici questo qui al primo stop, che sarebbe questa figura qui, si schianta contro il muro. Infatti io stavo dicendo proprio questo, mi ero ricordato nel corso di una nostra intervista quando dicevi che tu hai sempre da imparare ogni giorno. Certo, questo è fuori discussione, cioè da lì il fascino di questo sport è verso quest'animale. Voglio dire, ma dopo 50 anni tu continui a dire che ogni giorno c'è da imparare. Ma non è assolutamente una battuta, mi guardo allo specchio e mi scopro che sono ignorante in materia perché quando ho iniziato dovevi varcare l'oceano per sapere qualcosa in più. Se loro riuscivano a spiegarla, perché tu trovi in giro tanti bravi cavalieri ma non ti riescono a spiegare il metodo o non te lo vogliono spiegare, ma la maggior parte sono proprio incapaci, non sono dei bravi maestri. E quindi adesso abbiamo tutto in Italia, siamo i primi a livello europeo insieme ai tedeschi, però siamo i primi come insegnanti, penso io a livello europeo e come cavalieri. Non è poco. Poi anche perché in Germania c'erano regole durissime, nel senso che non potevi tirare di più una regia, c'erano controlli dappertutto, venivano in scuderia addirittura a controllare se il cavallo era legato per più di mezz'ora o qualche cosa, cose che non, diciamo, cose veramente dure. Non puoi, a questa maniera, io non ho potuto far esprimere al massimo il mio cavallo solo per colpa di tutti questi supercontrolli al limite dell'assurdo. Quindi il mio cavallo ha bisogno, ripeto, di un particolarissimo riscaldamento. Senti, ma tu hai ancora degli obiettivi che ti sei posti ancora? No, cercare di stare a galla ogni tanto anche in gara, sì, però per dare una chiata a Caterina sì è vero che questo amico collega è il suo allenatore adesso, però lei ha bisogno di altri consigli, diciamo, sempre sul suo baricentro. Si cerca sempre la perfezione che non esiste, però il papà, diciamo, è papà allenatore e lei vuole il papà allenatore soprattutto sotto questo aspetto. Non come destramento del cavallo, ma come destramento suo a livello, sai, a volte c'è una contrazione, spalle indietro, spalle un pochettino in avanti e pure di un dito ti possono far vincere o far perdere una gara. Sicuramente, ma io credo che sia importante anche il supporto psicologico. Senti, Caterina, si parlava di passi in avanti che si fanno, se tu mi permetti adesso voglio dire, voglio che tu evidenzi una cosa molto carina, nel senso che sei diventata una istruttrice e gradirei che poi questa tua ulteriore acquisizione di titoli spieghi come puoi metterla poi, come dire, a disposizione della vostra struttura, no? So che a breve partiranno dei corsi, se ne vuoi fare c'è, non te ne sono grato. Sì, sì, a breve partiranno dei corsi che verranno organizzati tutto il periodo estivo il lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio, durante i quali i bambini dai 6 ai 12 anni potranno svolgere attività a livello amatoriale, parliamo sempre di un discorso sportivo, ovvero pallavolo, calcio, equitazione e tanti altri sport che possono essere svolti all'aria aperta all'interno della nostra struttura. Volevo che ricordassi che sei diventata istruttrice di base per quanto riguarda il calcio per poter allenare i pulcini, i piccoli amici ed esordienti e questo corso l'ho svolto a Bari insieme a mio fratello. Ecco, come vedete è non soltanto un amazzo, una cavallerizza di rango ma si avvicina un po' a tutte le discipline sportive, però credo sia il caso di far notare come tutte queste esperienze anche all'estero che tu stai acquisendo poi alla fine le pone a disposizione di questa straordinaria struttura che tu, papà, mamma e i tuoi fratelli avete messo su proprio per avvicinare quanta più gente possibile, non soltanto ai cavalli ma anche al mondo dello sport e perché no alla natura, vero? Sì, 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 certo. Poi organizziamo anche delle lezioni che svolgiamo tutta la settimana, iniziamo con i bambini di tre anni fino a età e inoltre possono iniziare anche gli adulti perché per fortuna l'equitazione non pone dei limiti di età, uno può iniziare anche a 40, 50 anni, non ci sono limiti assolutamente. Ecco Grigori, volevo chiederti proprio questo, visto che sei stato sempre di una generosità, di una spettalità unica, no? Ecco, è possibile, dico, avvicinarsi ancora, soprattutto in questa situazione, diciamo, di queste notevole difficoltà economiche, avvicinarsi ad uno sport che forse erogneamente viene ritenuto uno sport, diciamo, per pochi? E' uno sport, è uno sport d'elite, da quando è nato l'uomo, ripeto, è storico, anche in guerra, pochi andavano a cavallo, dieci andavano a cavallo e cinque mila piedi, questa è la verità, quindi è inutile che facciamo i falsi ipocriti, però noi non abbiamo niente, qui alla macchia degli esperti potete chiedere in giro, non esiste un compleanno, non esiste Natale, non esiste Pasqua, non esiste niente, noi abbiamo solo questo come meta e andiamo avanti quasi alla kamikaze per poter avere dei risultati, qui non abbiamo altri lussi, non abbiamo proprio niente e anzi devo ringraziare qui mia moglie e altri miei due figli che permettono a me e a Caterina di andare fuori, ma la gara non è per la gara, come ho spiegato tante volte a Caterina e soprattutto quello di allenarti gomito a gomito con i top riders che stanno in circolazione, cercare di carpire proprio i segreti, le virgole, le sfumature che ti mancano e cercare sempre l'obiettivo che poi è la cosa più bella, quella che ti fa andare a dormire è stanco, quello che ti fa vivere per il cavallo e quindi anche se vai stanco a dormire con le tasche vuote però sei stanco e soddisfatto e quindi questo è quello che io ho cercato di imparare ai miei figli in generale. Io devo sempre sottolineare la semplicità e l'umiltà che contraddistinguono anche le colloquie di Gregorio. Io vi ringrazio per l'ascolto e voglio ricordarvi che il binomio proprio natura e sport qua è perfetto perché si vive proprio in un contesto naturalistico di estremo interesse e poi come vi ha ricordato Caterina fra un po' partiranno giochi all'aperto che lo ricorda ancora dai sei, se vuoi ricordalo tu. Sì dai sei ai dodici anni, lunedì, mercoledì e venerdì sono aperte le iscrizioni. Benissimo, ora ci fermiamo qui, per chi vuole vivere all'aria aperta e vuole vivere bene, quindi sapete la macchia degli esperti, io vi ringrazio per l'ascolto e vi rinnovo l'invito a seguirci. Buon proseguimento con i nostri professori.